mmm e le ha piaciuto l'odore? no non mi piace no 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 ah no no rifai scusa eccoci qui oh mamma mia uff uff no 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 adesso la seconda oh stronzo vabbè oh ma che male oh avete sentito? oh mio dio mia schiena mia schiena le mie ginocchia a fare un video con no che casino va bene seriamente è scatenato l'inferno ok ok cambia inquadratura oh oh monadono uff dio fonte le cimici a dicembre sia dicembre a gennaio quasi a febbraio schifo che schifo che schifo dio santo che schifo che schifo amore c'è una cimice sopra la softbox ti prego si sto muovendo ti sopra eh no eh eh no mi sopra la vedi grazie quasi finito cazzo ti fa fastidio che abbaia ma ho abbaiato un secondo eh perché l'ho zettito e quando finisco andiamo a prendere quanto ti manca? 20 minuti scusa scusa che ore sono? alle 7 cazzo come non andiamo d'accordo con la telecamera mamma sono un secondino amore un secondino no tranquilla tranquilla porca puttana speva la la grazie grazie